Dobbiamo crescere tanto, soprattutto dal punto di vista della condizione mentale. E' questo il pensiero di Marco Piccini, capitano della Fidelis Sandra ed ospite della trasmissione di Telesveva Pani Amore Fidelis. Proprio lui ha voluto ricordare come il lavoro quotidiano sul campo si stia concentrando proprio sulla condizione mentale, oltre che fisica. Deve crescere sotto l'aspetto della concentrazione. Concentrazione deve essere continua sui 90 minuti. Dobbiamo pensare ad ogni azione come se fosse l'ultima, perché evidentemente ogni qualvolta ci distraiamo, purtroppo, le cose non girano bene. Se le gare si chiudessero l'ottantesimo minuto, la squadra andriese avrebbe otto punti in più. E ciò significa piena zona playoff e tanta tensione in meno. Invece c'è il penultimo posto e dopo la vittoria contro l'Akragas, due nuove sconfitte con Trapani e Matera. Ci stiamo lavorando da quando è arrivato il mister in maniera molto importante, per cui questa volta negli ultimi minuti diciamo che è stato il nostro momento migliore. Per cui speriamo che magari con Rende negli ultimi minuti vada in un'altra maniera. Ora la sfida a Rende, squadra sorpresa di questa stagione neopromossa, che sta disputando una stagione all'altezza della situazione in Serie C. Il Rende è una squadra molto ostica, una squadra che si sa chiudere molto bene e ripartire molto bene. Quindi dovremmo interpretare una partita con grande temperamento, grande continuità per tutti i 90 minuti, senza cali di concentrazione, perché stavolta non ce li possiamo proprio permettere. Personalmente lo stesso Piccini, dopo i tanti problemi avuti sin dall'inizio della preparazione atletica, sta tornando al 100% della condizione, con una promessa ai tifosi azzurri. 100% no, perché da inizio anno purtroppo ho avuto qualche problemino di troppo. Però sono in grande crescita, penso che nella prossima partita già di poter offrire buonissime prestazioni. È una promessa più che altro.